in collaborazione con Cari amici e cari amiche della Pallamano non si è ancora spenta l'eco della vittoria dell'Oacre Bolzano nel campionato italiano vediamo dietro di noi la coppa che sancisce il trofeo la coppa del trofeo vinto dai campioni d'Italia, oggi la puntata speciale andremo a vedere tutta la partita finale gara 2 con il commento originale di Matteo Aldamonte e Pierluigi Di Marcello, buon divertimento Quella di oggi potrebbe essere la domenica del cinquantesimo Scudetto della Pallamano italiana, tutto è legato a doppio filo con i destini di Bolzano e Pressano, le finaliste di quest'anno in un derby tutto Trentino Alto Atesino che oggi potrebbe vedere chiusa la sua serie, questa è gara 2 di finale Scudetto, immagini in diretta dal Palasport di Pressanone da Matteo Aldamonte e Pierluigi Di Marcello Una buona serata, il bilancio del confronto dice 1-0 Bolzano dopo il 28-21 di gara 1 la squadra del tecnico Boris Varcek ha oggi un vero e proprio match point deve vincere o pareggiare per laurearsi campione d'Italia per la quinta volta nella sua storia a dir poco difficile invece l'impresa del Pressano Pierluigi perché è già complicato battere la squadra che ha chiuso in vetta la regular season lo è ancora di più senza due infortuni pesantissimi, Adriano Di Maggio e Alessandro Dallago che si sommano all'assenza di lungo corso di Alessandrini Eh sì Matteo, oggi è un'occasione ghiottissima per il Bolzano che arriva super concentrato a questa sfida e probabilmente cercherà di sfruttare le defezioni dell'ultima ora degli ultimi 15 minuti degli infortuni rimediati appunto a Di Maggio e Dallago che si vanno a sommare alla già grave assenza di Alessandrini Pollice rotto per Dallago crociato per Adriano Di Maggio chiaramente due infortuni pesanti e gravi che avranno bisogno di parecchio tempo per poterli rivedere di nuovo in campo eh il Pressano ha gestito e ha tenuto testa al Bolzano per i primi 45 minuti di gara 1 poi è in qualche modo crollata anche a seguito delle due eh importanti assenze e ha ceduto il passo al Bolzano che è tornata Corsara da quel di Lavis con il punteggio di 28-21 vedremo oggi quello che succederà sicuramente il Pressano ce la metterà tutta per cercare di impensierire e portare magari a gara 3 questo Bolzano ci sono sicuramente armi importanti nella faretra di coach Branko Dumnic comunque al di là delle assenze sugli infortuni eh vorrei sottolineare perché mi fa piacere e l'ho visto in settimana l'abbiamo visto in settimana sui social media su Facebook in particolare gli auguri da parte della società Bolzanina ai due ragazzi assenti dall'altra parte anche in una serie di finale scudetto c'è spazio per la sportività soprattutto tra queste due squadre che si sono affrontate tante volte anche negli anni scorsi nel battagliare per la vetta del girone A eh queste due squadre hanno si sono sempre rispettate si conoscono a memoria e si sono sempre come dire in qualche modo sportivamente eh piaciute chiaramente di fronte a degli infortuni così gravi lo spazio per per la stima e per la vicinanza è d'obbligo tra l'altro dal lago è anche un ex avvestito e vinto con la maglia del Bolzano diamo un'occhiata alle formazioni di queste due squadre partendo dal Bolzano che qui a Bressanone nonostante si tratti di fatto di un campo neutro gioca da squadra di casa per questa gara due per l'eventuale poi gara tre di finale scudetto vediamo in grafica la formazione della squadra allenata da Boris Vorsek non ci sono variazioni Volarevic, Sommerer, Vivaider, Sporcic, Alilcovic, Matar, Ceri, Gaeta, Perkerin, Rebner, Turcovic, Udovicic, Puzzer e Berzic a disposizione dell'allenatore croato che dopo aver vinto alla sua seconda stagione nel campionato italiano la prima però sulla panchina del Bolzano la Coppa Italia ha la possibilità adesso di trionfare in campionato dall'altra parte invece il pressano di Branko Dumnic nel corso del pre partita è stato anticipato che questa serie di finale è di fatto l'ultima di Branko Dumnic sulla panchina della formazione Trentina, Facchinelli, San Paolo, la coppia di portieri, poi Kistè, Matteo Moser, Bolognani, Dedovic, Dantino, Di Maggio che però va in pacchina solamente ad onor di firma Mazzucchi, Balker, Fadanelli, Giongo, Alessandrini, Argentin, Folgeraiter e Nicola Moser a dirigere l'incontro la coppia formata dai signori Cosenza, Digela e Schiavone di Siracusa per loro quindicesima finale scudetto in carriera. Sì Matteo adesso sono curioso di vedere come schiererà lo starting seven il mister Dumnic, magari Dantino all'ala destra anche se fuori mano però servirà, serviranno come dire forse gli unici tre che possono dare una mano in questa rotazione sono i due cugini Moser, Nicola e Matteo, Argentin che magari avrà qualche minuto in più soprattutto nella fase d'attacco e Dantino perché diciamo che il resto della panchina non ha la caratura e l'esperienza per poter aiutare questo pressano soprattutto in una gara così importante quale gara due di finale scudetto. Da sinistra a destra dei vostri schermi in divisa totalmente nera il pressano maglia bianca invece per il Bolzano che con un risultato utile, un risultato positivo vincerebbe lo scudetto. Tutto pronto è iniziata gara due di finale scudetto della serie a uno maschile di pallamano per il cinquantesimo anno si assegna il tricolore sia avverrà stasera o martedì in gara tre lo scopriremo al termine di questi 60 minuti emozionanti che ci apprestiamo a vivere qui in diretta dalla Parasport di Bressanone. Primo possesso della gara con il pallone nelle mani del pressano c'è Matteo Moser in posizione di ala destra con Dedovic Argentin sulla linea dei terzini assieme a Pascal Dantino il giropalla da parte del pressano lo scarico per Dedovic c'è un fallo subito della difesa da parte del Bolzano. Siamo abituati a vedere subito in Rebler che esce fuori dalla linea dei nove metri ad interrompere la circolazione della squadra avversaria lui che si sgancia da questa 6-0 per infastidire come in questo caso Argentin. Il tiro cercato proprio da Andrea Argentin ha parato Matteo Bolarevic il suo primo intervento nel corso della gara contrattacca il Bolzano al primo possesso della sua gara la rete di Felipe Gaeta che va a segnare gol della classe 82 italo-brasiliano. Senza troppi fronzoli Bolarevic para e in seconda fase sul passo Felipe Gaeta tiro secco sul primo palo che trafigge Valerio San Paolo tra le gambe. Giro palla per il pressano che naturalmente deve anche prendere le misure per quanto possibile su questa difesa possente a dir poco del Bolzano in particolar modo nella parte centrale con Alilcovic e Ine Rebner il movimento di Matteo Moser che va a tagliare come doppio pivot naturalmente i giocatori del pressano provano a far muovere la difesa avversaria e a schiacciarla in qualche modo. Dedovic deve tornare da Pascal Dantino che va per via centrali poi la conclusione dello stesso Dedovic Murata la palla torna nelle mani di Dantino che ha spazio dentro il pallone per Moser anticipato e allora Volarevic vuole dare il via all'azione d'attacco del Bolzano il possesso di Dejan Turkovic lo scarico ancora Gaeta non c'è spazio deve rallentare il Bolzano. Vediamo come naturalmente questa è una tendenza che abbiamo visto quasi tutte le ultime soprattutto partite del Bolzano come naturalmente cerchino di trovare la soluzione sulla parte destra del campo e l'asse Sonnerer Gaeta è stato micidiale sono loro i finalizzatori i veri bombardieri di questo Bolzano. Partita incredibile in particolar modo di Martin Sonnerer in gara uno autentico cecchino del Bolzano e della nazionale Berzic per Arceri si torna per via centrale Dejan Turkovic la conclusione murata da una buona difesa di Andrea Argentini il rimpallo però ancora favorito il Bolzano che si può riorganizzare e riposizionare Bruno Berzic per via centrale l'incrocio per Gaeta che pasticcia un po' nella presa del pallone fallo di Dedovic. Ottimo il timing di Dedovic che impedisce a Bruno Berzic di girarsi. Segnalazione di passivo va in elevazione ancora un muro però di Argentini che ha iniziato molto bene in difesa. E questa è la specialità della casa questo gesto tecnico il muro secondo consecutivo ottimo il suo impatto soprattutto nella fase difensiva. E il Pressano dopo tre minuti di partita può attaccare per provare a pareggiare fino ad ora a dividere le due squadre il gol di Felipe Gaeta. Argentin. Si alternano Dedovic, Argentin e Dantino nelle tre posizioni di terzino. Ancora Dedovic, nuovamente Dantino continua a far circolare palla il Pressano c'è un incrocio, Dedovic di nuovo Argentin nell'elevazione vediamo se Dedovic ha spazio per la conclusione no deve tornare su Dantino che viene fermato da Hannesine e Rebner senza difficoltà. So che è difficile comunque dovrebbero provare a cercare la via del tiro dai nove metri perché questa è una difesa che difficilmente si aprirà oltre alla circolazione di palla. Un po' di coraggio per un tiro da fuori ci serve. E forse anche un po' d'aiuto dalle ali come in questo caso con la bella rete da parte di Alessio Giungo. Ottima l'esecuzione di questa rete lascia il braccio alto volare vicini sul primo palo. E la virgola poi è il gol splendido da parte di Felipe Gaeta una girella gesto tecnico davvero pregevole il suo per il 2 a 1 due reti del Bozzano due reti di Gaeta. Atleticamente un giocatore praticamente l'abbiamo definito più volte dinoccolato sembra fatto di gomma piuma e lui ha un gioco di gambe micidiale lascia più volte il suo diretto difensore piantato lì e va via come in questo caso è una tecnica di tiro chiaramente unica del suo genere. Dantino. Cambio di posizione con Argentin che torna per via centrali poi la palla lasciata a Dedovic che gioca a destra e fa fatica per ora a rendersi pericoloso l'uno contro uno ancora Dantino. Argentin e la palla per Dedovic gran palla questa dentro Folgeraiter si è oscurata però letteralmente l'area dei sei metri con Volarevic. Gli è piombato praticamente addosso Volarevic gli ha chiuso tutto lo specchio ha cercato di superarlo nella zona alta della porta non c'è riuscito. Dantino che va in palleggio ancora centralmente riesce a fuggir via Argentina la marcatura poi però Turcovic va a ripiegare c'è anche un cartellino giallo per Hannes Iner Ebner 450 presenze con la maglia del Bolzano nessuno più di lui da quest'anno capitano dopo l'addio di Lucas Badner. Iner Ebner che viene utilizzato prettamente in difesa anche se l'abbiamo visto più volte correre nella ripartenza in seconda fase e farsi trovare pronto anche in attacco. Il tiro di Argentina pallone che si stampa sulla traversa il più avvantaggiato sulla ribattuta e Pascal Dantino che dunque ridà nuova linfa all'attacco della Pressano alla manovra della formazione trentina. Ancora Pascal Dantino sempre 2 a 1 il punteggio in favore di Bolzano. Matteo Moser Argentina poi Dedovic con due pivot la squadra di Dumnici. Il tiro di Argentina ancora una volta il pallone che colpisce il palo e poi finisce sul volto di Matteo Volarevic sfortunato colpito al naso. Pallone che è carambolato sul sul volto di Matteo Volarevic ma bene Argentina deve prendere coraggio il Pressano ha bisogno di lui non può prescindere dai suoi tiri lui che ha nelle sue corde il un ottimo tiro forte preciso tanta potenza a disposizione centimetri è anche a costo di sbagliare qualcosa ma deve tirare perché il modo migliore anche per aprire la difesa del Bolzano altrimenti invalicabile. Anche perché in queste ultime due occasioni è stata la sfortuna a negare la gioia del gol una traverse un palo ancora palla in mano ai gialloneri che attaccano sempre due a uno il punteggio. Dedovic a sinistra c'è ancora Andrea Argentin il palleggio di Dantino che torna improvvisamente a sinistra ha capito tutto Gaeta con un filo di ritardo però allora Argentin prova a buttarsi nello spazio voleva qualcosina in più anche se in realtà non era arrivato in zona tiro e dunque ha perso l'attimo. Ha perso l'attimo anche perché doveva andare dentro invece ha tentato il passaggio difficilissimo in quella posizione quella velocità sui sei metri. Dedovic lo scarico la palla ancora per Argentin che si intestardisce nell'andar dentro ritarda lo scarico e dunque sfondamento fischiato al giocatore di origini venete Gaeta la palla per Turcovic il dialogo tra i due veloce per portare al tiro Martin Sonnerer la parata di San Paolo con l'aiuto del palo prova a portarsi dall'altra parte il pressano a ribaltare il fronte d'attacco il tiro di Dedovic la parata però molto bella questa di Volarevic estremamente reattivo non c'è davvero tempo per respirare perché il Bolzano vuole attaccare con Turcovic poi Felipe Gaeta sotto la traversa rete del 3 a 1 al settimo. Ancora Gaeta il mattatore del match questa volta si è esibito in un gol in tuffo le tre reti del Bolzano portano tutte tra la sua firma. Time out chiamato da Branko Dumnic attacca il pressano Dedovic Dantino si fa vedere Alilcovic può ancora gestire la palla la formazione trentina il pallone anticipato questa volta la Gaeta che ha indovinato il timing e il lancio per Arciari che va a trasformare allo scoccare dell'ottavo minuto 4 a 1 il punteggio ha già rimesso in gioco però il pressano che vuole attaccare con Dantino il quale però fa davvero fatica a trovare spazio e soddisfazione lì nel mezzo. E se non è innerebile rastaccarsi è Alilcovic che gli è piombato addosso in maniera vehemente. Abbiamo visto nell'azione precedente Arciari che si è involato sulla fascia ha usato tutte le sue doti atletiche di salto per buttarsi letteralmente con tutta la palla in porta. Tiro senza fronzoli che batte Valerio San Paolo. Primo gol per lui. Le indicazioni di Branko Dumnic lascerà al termine di questa stagione la la panchina del pressano che ha condotto ai primi storici titoli della formazione trentina Supercoppa e Coppa Italia nella sua bacheca e nella bacheca della società del sodalizio presieduto da Lamberto Giungo. Moser. Dedovic. Ancora Argentin. Poi Dantino. Argentin. Le ha forse spazio stavolta per prendersi il tiro. Non se l'è sentita. Ha continuato a far circolare palla. Attenzione a Dantino. Ha cercato di sorprendere in qualche modo Sonner che lo atterra. Fa buona guardia Sonner. Non si fa superare lateralmente. Lascia il busto avanti. Ancora Argentin. Il tiro cercato da Dedovic. Il muro di Bolzano però in particolar modo con Himmer Ebner riesce a deviare. Ancora possesso del pressano. Deve farsi largo tra le maglie bianco-rosse. Dinko Dedovic per ricevere dal capitano di pressano Giungo. Poi la conclusione solo accennata però perché commette una invasione Giungo. Dunque cambio di possesso. Turcovic. L'elevazione. Ancora Gaeta. Dentro la palla. In qualche modo il pressano riesce a tenerla in vita. Il recupero. Attenzione a Giungo adesso che può andarsene in contropede riesce a evitare la marcatura e poi Volarevic. E anche dai sei metri se Volarevic para così diventa tutto ancora più complicato. La salita diventa sempre più irta soprattutto se anche Volarevic dà il suo contributo. Questo sembrava un gol già fatto. Giungo riesce a superare in uno contro uno il sopraggiungere di Turcovic ma non riesce a superare Volarevic che con la sua manona devia la traiettoria del parlone la impenna sopra la traversa. Berzic lì nel mezzo a dettare i ritmi dell'attacco di Bolzano con Dayan Turcovic che adesso riceve dopo un cambio di posizione ha la palla dentro. Para San Paolo era buono il timing del pallone ceduto da Turcovic a Berzic il quale però dai sei metri poi non è riuscito a evitare l'estremo difensore del Prezzano. È stato scolastico e molto efficace Valerio San Paolo che è andato a chiudere il primo palo chiaramente Bruno Berzic in precario equilibrio verso il fondo solitamente si tira sul primo palo Valerio San Paolo lo sa e con tutto il corpo si è opposto a questo pallone e apparentemente senza difficoltà gli ha negato la gioia del gol. È uscito Moser in posizione anzi è uscito Giungo con Moser che è passato in posizione di alla sinistra e Dantino a destra c'è Bolognani sulla linea dei sei metri dunque con un solo cambio ha praticamente rivoluzionato la squadra e le posizioni dei suoi giocatori Branko Dumnic. Invertendo le ali e dando spazio a Bolognani sulla linea dei nove metri eccolo il suo possesso ancora Bolognani che va in uno contro uno la palla larga per Moser che però non ha spazio deve tornare centralmente l'ultimo tocco di Gaeta ancora palla in mano al Pressano si continua a giocare a destra c'è Dinko Dedovic nuovamente Argentini il palleggio improvviso scavalcamento di Argentini che subisce fallo. Il braccio del passivo già si è alzato da due passaggi quindi ancora quattro passaggi a disposizione per la squadra del Pressano. Quando siamo all'undicesimo minuto del primo tempo Bolognani la sua finta la conclusione due volte il palo e Matevolarevic negano la gioia del gol al Pressano sempre quattro a uno. Questa volta con la complicità del palo Matevolarevic chiude il primo palo come può e continua ad aggiungere al suo personale score la sua quinta parata. Berzic con la tranquillità di chi è avanti sul più tre da l'impressione di avere in mano le redini della partita attacca il Bolzano Berzic ancora dentro la palla il tiro cercato da Damir Alilcovic fallo e tiro dai sette metri. Ottima la collaborazione tra Bruno Berzic e Alilcovic passaggio schiacciato da manuale e Alilcovic che aveva ben lavorato per trovare la superiorità numerica e lo spazio necessario per raccogliere quel tiro. Tuffarsi costringendo i giocatori del Pressano a commettere fallo. C'è stato anche un cartellino giallo ma intanto Turcovic che raccoglie la ribattuta due volte super Valerio San Paolo. E anche Valerio San Paolo non è da meno abbiamo in campo questa sera due dei migliori portieri d'Italia i migliori portieri d'Italia protagonisti anche con la maglia azzurra. Due volte grande intervento soprattutto il secondo il primo con l'aiuto del palo aveva parato intanto si scaldano sugli spalti i sostenitori in questo caso con tutta gialla ovvero quelli del Pressano dall'altra parte della tribuna invece ci sono quelli in maglia rossa ovvero i tifosi Bolsanini. Altra palla persa però dal Pressano che sta facendo grandissima fatica soprattutto nella fase d'attacco a trovare la via del gol. Hannessin Rebner che poi si posiziona sulla linea dei sei metri attenzione a Turcovic le finte la palla lasciata a Gaeta la finta ancora da parte di Felipe Gaeta lo scarico per Arceri che si prende il tiro sul primo palo freddato Valerio San Paolo. Ottimo questa intuizione di Arceri che usa tutto lo spazio le sue doti atletiche per staccare e battere Valerio San Paolo sul primo palo riesce a chiudere il tiro ottimo per il morale e soprattutto per dare la possibilità e la fiducia a tutti i suoi compagni per chiamarlo in causa. Deadovic per Argentin che nella primissima fase della partita aveva preso con coraggio un paio di tiri importanti adesso un pochino meno si è visto si vede invece Bolognani che è il più fresco entrato dalla panchina va a segnare per il 5-2. Berziccia il tiro di Gaeta e toglie le ragnatele dall'incrocio dei pali 6 a 2 forma smagliante per Gaeta. Che facilità d'esecuzione ottimo il suo ritmo innescato immediatamente aveva la velocità giusta eh chiaramente è micidiale da quella zona centrale del campo è riuscito anche a a utilizzare potenza e precisione quarto gol per Gaeta. Quattro dei primi sei gol del Bolzano portano il suo nome. Il possesso adesso per il Pressano tentativo di passaggio di Argentin sulla linea per Folgeraita. Halilcovic però fa buona guardia e commette fallo. Deve ripartire il Pressano sempre a quota 2 dopo il gol segnato nel minuto scorso da Simone Bolognani. Siamo alla quattordicesimo quando anzi stiamo per andare verso lo scoccare del minuto 15 dunque sta per andarsene la primo quarto d'ora di partita. Dedovic l'uscita di Halilcovic a chiudere la linea di passaggio ma dentro Argentinio centrale la conclusione la palla resta lì Dedovic che raccoglie la ribattuta e va a segnare 6 a 3. Tanta fatica ma anche tanta caparbietà di Dedovic che raccoglie questo pallone vagante sulla linea dei sei metri lo ribadisce in gol. Non ci sta il Pressano vuole rimanere aggrappato al match. Abbiamo visto anche un ulteriore cambio tattico del mister Duminic alle ali i due fratelli i due cugini Moser scusate. Tantino invece fatto riposare in panchina. Naturalmente cerca di far ruotare tutti gli uomini a disposizione Branko Duminic ricordiamo le tre assenze pesantissime che riguardano Dal Lago e Di Maggio e poi Alessio Alessandrini. Reta intanto di Bruno Berzic per il 7-3 e il nuovo più 4 Bolognani che va dentro e subisce fallo 9 metri. Bruno Berzic aveva prova di imperetrazione tra primo e secondo sul lato sinistro e non c'era riuscito. Ci prova sul lato destro e quello il suo lato fortunato è da lì che riesce a trafiggere Valerio San Paolo. Quattro reti a dividere le due squadre. La formula ricordiamo non influiscono in alcun modo le sette reti che hanno diviso le due squadre al termine di gara 1 28-21 che vuol dire 1-0 nella serie per il Bolzano ma vincendo con un qualunque scarto il Pressano porterebbe la serie a gara 3. Una serie di rimpalli che favoriscono ancora la formazione trentina e poi però Gaeta va ad arpionare quel pallone. A proposito di Caparbietà bravissimo Gaeta. Continua la sacra delle palle perse di questo Pressano soprattutto in attacco non può assolutamente permettersi di perdere tutti questi palloni perché palla persa vuol dire dare la possibilità ancora più possibilità al Bolzano di far male in attacco. Era durata 40 minuti all'incirca la gara 1 della formazione trentina poi la fuga da parte del Bolzano la palla dentro per Gaeta che stavolta prova una conclusione difficile in precario equilibrio infatti San Paolo a vita facile recupera il pallone. Dedovic a sinistra per Bolognani attenzione a Mozart che però non ha la giusta rincorsa per andare a prendersi quel tiro poi deve divincolarsi in mezzo ad una serie di avversari bolognani. Fallo commesso da Berzic anzi da Turkovic che viene ammonito su Dinko Dedovic ci sarà un tiro dai 7 metri. Si butta dentro Dinko Dedovic e si va con Caparbietà a prendere questo tiro dai 7 metri. Anche Dantino zoppica probabilmente è questo il motivo o un risentimento muscolare o un colpo subito continua la sagra dell'infermeria. Va lui dalla linea e non sbaglia solita eleganza e freddezza dalla linea dei 7 metri per Pascal Dantino che adesso deve nuovamente accomodarsi in panchina ha lasciato il campo peraltro saltellando su un piede solo quasi a non voler neanche poggiare l'altra gamba. Chiaramente problemi anche per Dantino continuano le tegole per il mister Branko Dubnici vedremo come se riuscirà a fronteggiare queste difficoltà. Gaeta Turkovic verso l'esterno poi la palla per Stefano Arceri che va a trasformare è un altro Arceri rispetto a quello che abbiamo visto in gara 1 sta giocando molto molto bene stasera. Sta giocando molto molto bene anche perché ha anche più spazio è stato messo in ritmo non si è preso dei tiri forzati è stato intelligente tatticamente quindi ha fatto in maniera scolastica di intelligente quello che lui sa fare prendere la palla in corsa saltare e utilizzare tutto il tempo a disposizione grazie alle sue doti di salto per superare il portiere avversario. Gol fotocopia rispetto al tiro precedente terzo gol per lui. Terza rete sulle otto complessive della sua squadra e la sua partita fino ad ora come gara 1 era stata la partita di Martin Sonner dall'altra parte non c'è stato bisogno di scomodare il mancino del Bolzano intanto si scomoda ma lo fa sempre alla sua maniera. Matevolarevic altro grande intervento. Dejan Turkovic porta avanti questa seconda fase va a sinistra improvvisamente forse ci mette un passo di troppo lo reclamava dalla panchina Branko Duminic le finte di Gaeta che va verso l'esterno la palla per Sonner ma c'è fallo e c'è una cartellino giallo per Forgeraiter. Sì questa volta è stato fermato ottimamente Felipe Gaeta chiaramente anche il pressano si è orientata verso la parte destra c'è meno luce in quella zona del campo e quindi automaticamente c'è più spazio. A sinistra fino adesso ottimamente sfruttati gli spazi e portati a termine dall'azione di Stefano Arceri. Berzic per Sonner non ci sono spazi si torna da Turkovic ancora Arceri la palla per Dejan Turkovic che ha la conclusione nelle mani facile per lui poi senza muro andare a prendersi il tiro replay e lo rivediamo questa è la rete che c'è stata riproposta dalla regia coordinata da Francesco Egito. Gran gol di Turkovic. Quanto è importante partire bene in azione di scalare questo gol è grande merito a Stefano Arceri ottimo il suo uno contro uno impegna già nella prima azione nella prima fase dell'azione due giocatori creando così spazio lo spazio necessario a Dejan Turkovic per raggiungere la via del gol. Dedovic Bolognani ancora Dedovic poi Nicola Moser che riceve e riconsegna per andare a tagliare sulla linea come doppio pivot Argentin rischia di perdere il pallone ne tiene il possesso poi la palla larga attenzione a Moser che stavolta il tiro aveva la giusta rincorsa non riesce però a centrare lo specchio della porta. Eh sì brutto tiro non riesce a chiudere con il polso tecnicamente o meglio la scelta era giusta di tiro ma tecnicamente poi non è riuscito a ad indirizzare la palla dove avrebbe voluto. Eh sì è messa subito in salita la gara per il pressano subito accelerazione fino al 4 a 1 per la formazione del Bolzano adesso 9-4 il risultato con il tavolo i delegati Fabian Fabian che al tavolo hanno richiamato l'attenzione degli arbitri cartellino giallo per Branko Dumnic che nell'azione scorsa richiedeva prima un'infrazione di passi poi una doppia evidentemente le proteste sono proseguite in questi minuti e adesso Dumnic ha ancora qualcosa da dire veemente la sua protesta punita dagli arbitri con un cartellino giallo comunque riflettevo di quanto sia difficile avere la mente lucida nel momento in cui un volarevic così sbarra la porta anche a tiri apparentemente facili chiaramente il morale dei giocatori è minato da questi interventi di uno straordinario portiere come Mate Polarevic invece con grande tranquillità il Bolzano sta dando l'impressione di condurre la gara gol di Berzic ottima l'esecuzione da un punto di vista tecnico con la finta di passaggio verso l'ala difensore completamente fuori causa poi la rete butta via invece questo pallone gestione semidisastrosa la parte di Andrea Argentin erroraccio 10-4 con 8-20 da giocare al termine del primo tempo adesso il prestano sembra aver se possibile anche alzato la sua percentuale di errore eh sì un errore blu errore bruttissimo passaggio completamente sbagliato sinonimo di poca lucidità a Lilcovic era tutto solo sulla linea invasione che dunque vanifica anche la traversa colpita il lancio di San Paolo millimetrico per Moser che però poi non se la senti di andare a prendersi il tiro allora deve tornare per via centrali rischiano ancora di perdere e buttare via questo pallone i giocatori del prestano con Bolognani la tiene in campo Dedovic ancora Bolognani dentro il pallone regalata però al Bolzano troppa fretta in entrambe le occasioni in cui aveva avuto il pallone in mano Bolognani in questo momento la il peggior nemico del prestano è proprio la fretta cerca la velocità per ricucire lo strappo ma in realtà cade in eccesso di velocità e quindi eccede in fretta e ovviamente gli errori si impennano collezionate palle perse Gaeta le finte di Turcovic dentro la palla per Alilcovic che però viene atterrato e subisce fallo si ripartirà dai nove metri c'è spazio per Sonner che può andare in uno contro uno dentro ancora il dialogo con Alilcovic lo sfondamento fischiato a Sonner attenzione alla seconda fase del prestano porta avanti in palleggio Bolognani a destra c'è Fadanelli che intanto è entrato dalla panchina ragazzo davvero giovanissimo Nicola Moser spostato dall'ala destra in posizione di di doppio pivot adesso a terzino destro era ed è appena uscito torna dentro ancora in doppio pivot Nicola Moser palla dentro attenzione a Fadanelli che se la sente di prendersi il giro e va a trasformare comunque andrà penso che ricorderà questa serie di finale scudetto è stato complice sicuramente l'intervento scomposto e tecnicamente scorretto di Matevolari che probabilmente non si aspettava quell'inserimento di di Fadanelli Moser sul contropiede e poi allunga la gamba Matevolarevic impressionante davvero ancora una volta ha letteralmente oscurato lo specchio della porta eh sì della sbavatura di prima viene cancellata completamente da questa parata straordinaria mano e piede sinistro che volano più alta della traversa e sbarrano la strada a quel tiro sottolineavamo in precedenza l'atmosfera che si respira questa sera al palasport di Bressanone con da una parte i tifosi del Pressano dall'altra quelli del Bolzano ma a coordinare il tutto c'è il gruppo che è giusto sottolinearlo della ola che sono gli storici tifosi organizzati di Bressanone perché quella che si respira in questo palasport come in tutto l'Alto Adige per la verità è un'area che è legata alla pallamano molto particolare qui la palamano è uno sport sempre molto sentito e di grande tradizione eh sì infatti sugli spalti ci sono tre opposte tifoserie che animano i derby del Trentino Alto Adige questa sera eh come dire unite in un in un tripudio di colori sui sugli spalti ottimo spettacolo ho visto anche qualche bianconero meranese quindi sono quattro in tutto considerando tutti presenti i tifosi del Pressano naturalmente attacco adesso per il Bolzano è è entrato Erik Udovicic che ha giocato una grande partita in gara uno il suo possesso prova subito a liberare a Lilcovic sulla linea dei sei metri e subisce fallo si ripartirà ancora da una nove metri dalla linea tratteggiata dei nove con il pallone in mano da Lilcovic che ha ridato in là all'azione e alla possesso del Bolzano l'uno contro uno di Bersic il cambio di possesso Udovicic che prova lo scavalcamento poi sotto contatto e ha cercato di liberare Bersic ancora fallo ai nove metri la scorsa partita è lui che ha spaccato la difesa del Pressano con i suoi inserimenti sui uno contro uno giocatore che sfondamento un giocatore che prediligi il contatto che va dentro non ha paura di andare dentro le prende e le dà come si suol dire intanto c'è stato un sfondamento fischiato probabilmente un blocco irregolare intanto Fadanelli classe 2002 senza paura è andato ancora una volta a prendersi il tiro questa volta Volarevic gli ha sbarrato la strada verso il gol la palla dentro attenzione alla conclusione di Damir Alilcovic che va a segnare rete che rivediamo sfortunate le sue conclusioni precedenti ma questa volta finalmente va referto anche lui Alilcovic in tuffo prende caparbiamente la palla bassa il baricentro si butta dentro l'area dei sei metri e sul palo più lontano supera Valerio San Paolo primo gol prima rete della sua partita il rete numero 115 complessiva in questa stagione la prima nel campionato italiano direi un'ottima stagione d'impatto con la nostra serie a uno e sì è stato lui un ottimo acquisto per questo Bolzano pedina inamovibile sia in attacco che in difesa per i bianco rossi ricordiamo che all'inizio coppia fissa nella nei due terzi difensori c'era Mario Sporcic che invece durante l'arco del campionato è diventata la terza scelta perché coppia fissa in Rebner Alilcovic ha provato a sorprendere la difesa avversaria intanto Simone Bolognani con questa conclusione a rubare il tempo agli avversari ma non a Matevolarevic che continua a collezionare interventi sale già in doppia cifra 26 minuti 5 gol subiti 10 parate al suo attivo 26 minuti e mezzo sul cronometro della partita attacca il Bolzano con Udovicic si muove centralmente il giocatore ex di Trieste ha cercato di liberare Alilcovic sulla linea c'è stato un fallo si riparte ancora Udovicic e Berzic cambio di posizione tra due con un incrocio va dentro poi il gol di Herik Udovicic millimetrico pallone messo sul palo lontano per il 12 a 5 al 27esimo lui da lì non la passa va fino in fondo va sempre dentro piede destro stacca in precario equilibrio supera Valerio San Paolo sul palo più lontano Fadanelli Moser direi richiamato in panchina Dinko Dedovic Bolognani il palleggio la palla lasciata indietro per Moser con un incrocio poi dentro l'intelligenza questa volta di Andrea Argentin che trova Folgera e da tutto solo gli cede il pallone per il gioca a casa lui che è brissinese gioca davanti al suo pubblico e si gioca a casa infatti durante la settimana ha fatto appello ai suoi ex compagni eh di squadra ai suoi ex tifosi per un sostegno di tifo sugli spalti è entrato intanto Mario Sporcic lì nel mezzo che ha sostituito Hannesine Rebner nella fase difensiva vedremo poi se ci sarà spazio anche in attacco per lui non c'è Dian Turkovic varietà di uomini davvero invidiabile quella su cui può contare Boris Vorsek sulla panchina di Bolzano alle sostituzioni infinite tutti all'altezza abbiamo detto più volte sono praticamente due squadre che potrebbero ogni giocatore potrebbe giocare titolare in ogni squadra nel campionato italiano Bolognani è saltata la difesa questa volta su quel lato di campo gran gol questo di Bolognani che è stato braccato dall'ultimo intervento in ultima istanza da parte di Stefano Arceri che poi si prende anche il richiamo la strigliata di Boris Vorsek sì e anche un po' di altri compagni di squadra lui è che probabilmente ha stretto un po' troppo non c'è stata probabilmente la giusta comunicazione eh lui salta la sua posizione ne approfitta Bolognani che con una traditoria beffarda scavalca Volarevic Udovicic subisce fallo nove metri 40 secondi al termine del primo tempo 13 sette il risultato in questa gara due di finale scudetto sta per andarsene dunque la prima frazione di partita Gaeta doppio incrocio per Eric Udovicic che vola almeno un paio di piani più in alto rispetto a tutti gli altri è il tempo di guardare prendere la mira battuto San Paolo e le sue prestazioni sono migliorate nel corso della stagione adesso è diventato un un giocatore di riferimento per il mister Dvorsek ottima la sua traiettoria si è lanciato verso il centro non ha avuto nessun tipo di di difficoltà da parte del muro e l'ha superato facilmente per arrivare a battere San Paolo gioco fermo con quest'ultimo tentativo di tiro arginato ancora una volta da Volarevic anche se sulla ribattuta la palla è rimasta nel Pressano gioco fermo e possibilità per Andrea Argentin di andare a concludere sopra il muro avversario poi non ci saranno però ulteriori chance ulteriori ribattute il tiro para Volarevic 14 Bolzano 7 Pressano al termine del primo tempo più in palla più desiderosa di chiudere la serie la formazione altoatesina in difficoltà e non potrebbe essere altrimenti il Pressano tutto pronto per la ripresa tutto pronto per il secondo tempo con il Bolzano che a questo punto Gigi vuole chiudere la pratica è il Bolzano che si è dimostrato in controllo del match con un super volare vince quattro gol per Gaeta il suo miglior realizzatore tre per Arceri che lo segue ma insomma un Bolzano che sta gestendo in maniera saggia e matura questo match Pressano chiaramente in difficoltà eh sì ricordiamo le assenze di di Maggio dall'Ague Alessandrini ai quali ha dovuto forzatamente fare a meno il tecnico Branko Dumic pallone in mano al Bolzano Gaeta per Berzic che subisce fallo Udovicic anzi che è riuscito a far comunque circolare il pallone Berzic e poi Erik Udovicic azione fatta di grande esplosività questo è un giocatore che in prospettiva può diventare sempre più importante per il Bolzano quasi un Turkovic due a tratti sì quasi lui che ha che predilige però a differenza di Turkovic che ha nel suo garniere il tiro dalla lunga distanza lui predilige il tiro in penetrazione è uno è un giocatore che che ama il contatto l'uno contro uno molto forte prepotente nella sua azione e trova sempre gli spazi Dedovic quindici sette il risultato Bolognani larga la palla per gioco che è rientrato dopo aver lasciato il campo nel corso del primo tempo va subito a prendersi un tiro dai sette metri Gaeta alza le braccia manifesta la sua presunta non colpevolezza ma l'arbitro vede un contatto e Giongo appena rientrato ricordiamo manca praticamente dall'inizio del match da sette otto minuti si è guadagnato il sette metri che va a battere Dantino zoppicando ricordiamo anche lui ha aumentato la l'infermeria è più lunga l'infermeria che la panchina di questo pressano la finta da parte di Pascal Dantino il tiro parato poi la ribattuta ancora a segno Pascal Dantino che lascia però il campo sempre zoppicando in maniera abbastanza vistosa quindici sette certo tre infortuni in una serie di finale in due partite è un'ipotesi per luigi ma possono essere il conto da pagare ad una stagione affrontata con quegli uomini che in gara 1 avevamo avevamo definito come pochi e sceltissimi di Branko Dumnic ma quando poi arrivano le partite in cui bisogna lottare e studare più che nella regular season bisogna forse anche a volte pagare il conto nessuno sa dove inizia la sfortuna e dove finisce la come dire la responsabilità di un roster troppo corto però sta di fatto che solitamente la storia i numeri ci dicono che una panchina c'è comunque una squadra con un roster corto va incontro a degli infortuni e qualora dovessero sopraggiungere è più difficile rimpiazzarli ovviamente. Goll incredibile intanto di Felipe Gaeta guardate dove ha messo il pallone ancora una volta ha tolto del lavoro ai custodi del Palasport di Bressanone perché ha dato una pulita a quell'angolo leggevo sui social media in settimana scherzando Gianluca Tapiran compagno peraltro ex di Gaeta Bolzano gli scrive a Felipe sei come il vino più passa il tempo e più migliori. Eh sì indubbiamente un giocatore che ha un impatto così in questa finale con un'eleganza una tranquillità un'autorevolezza unica nel suo genere intanto Volarevic continua a esprimersi su livelli eccelsi. Grande intervento ancora una volta da parte dell'estremo difensore della nazionale Azzurra e del Pressano tentativo di passaggio su Folgeraiter ci ha messo un piede malandrino Martin Sonner riflesso probabilmente incondizionato nel andare a chiudere con la mano due minuti si accomoda in panchina il mancino della Bolzano 16.8 il risultato attacca con la superiorità numerica il Pressano si tratta della prima sospensione temporanea della partita dopo addirittura 34 minuti complessivi di gioco. Sì quindi questa è testimonianza della correttezza nonostante sia una partita maschia ma è stata una partita fin qui corretta però in questo momento arriva rimediati due in un attimo. Eh sì. Anche Gaeta due minuti dunque doppia superiorità numerica che si materializza in pochi secondi per il Pressano Argentina. Moser naturalmente adesso la necessità è quella di trovare lo spazio migliore ma Matevolarevic nuovamente chiude la porta e prende il pallone non si passa da quelle parti. Eh no questa sera è veramente sugli scudi. Disarmante direi. Eh assolutamente disarmante soprattutto per un giocatore che stava cercando di trovare la condizione come gioco scelta di tiro non felice anche perché sbagliare un tiro con quell'angolo eh con un pallonetto chiaramente non è il modo migliore per recuperare energia e serenità mentale. Attacca senza extra player il Bolzano dunque con solo i quattro giocatori di movimento fa circolare tanto il pallone anche perché ha uomini in grado di trattare la palla e di prendersi queste conclusioni anche se Udovicic ha tirato quasi in un vicolo cieco con il muro e poi San Paolo che hanno deviato con calma il Pressano anche se è la squadra che delle due dovrebbe maggiormente accelerare perché va a caccia del gol su questi maggiori spazi generati dalla superiorità numerica dalla doppia superiorità numerica le finte di Bolognani che si butta nello spazio riesce non senza difficoltà a battere Volarevic. Bravo Bolognani che si butta dentro e trova lo spazio per battere Volarevic anche se prima nell'azione precedente inspiegabile la fretta di Udovic sono in doppia inferiorità numerica e quindi chiaramente bisogna è obbligatorio giocare con i secondi per permettere il sopraggiungere dei propri compagni di squadra affrettare un tiro tra l'altro in posizione tutt'altro che agevole possiamo dirlo è un errore blu anche quello. Marcato a uomo da Matteo Moser Eric Udovicic seguito anche Berzic sulla linea va in elevazione Dejan Turkovic è sempre intelligente la sua gestione del pallone poi ha provato a salire in cielo Stefano Arceri il lancio per Moser che si coordina Matteo Volarevic di nuovo quelli sono i tiri da non fare a Matteo Volarevic pallone appoggiato ma Volarevic è sempre estremamente attento su tutte e soprattutto su queste conclusioni. Da non fare normalmente soprattutto in una serata di grazia e quindi lui è assolutamente una visione di gioco incredibile una visione del braccio aspettato fino all'ultimo momento alzato la mano sinistra anzi entrambe le mani per negare la giuda del gol anche in questo caso probabilmente è meglio sbagliare con un tiro forte piuttosto che con un pallonetto. Anche perché poi il Bolzano dall'altra parte non perdona la rete di Damir Alilcovic per il 17-9 sugli spalti i sostenitori del Bolzano si godono la prestazione fino ad ora quadrata compatta concentrata di questa squadra che vuole a questo punto chiudere come dicevamo la pratica andare a prendersi lo scudetto e purtroppo il Pressano non sfrutta assolutamente in in quantità di gol la doppia supererota numerica Moser per Folgeraiter lo scarico dietro nella schiena la palla arriva a Jongo Volarevic nuovamente Mate Volarevic ipnotizzato anche questa volta a Jongo sceglie la via della potenza ma anche sulla potenza Mate Volarevic più che attento e stampa la sua manona contro il pallone testa bassa per Jongo braccia al cielo per Mate Volarevic Gaeta la palla per Berzic poi Arceri che stacca sul piede destro prova la magia pallone che finisce alto però sopra la traversa si morde le mani Stefan Arceri sa che poteva fare meglio aveva lo spazio la possibilità per superare Valerio San Paolo in un altro modo sceglie la via di un pallonetto spinto con rotazione insomma cuocente di difficoltà altissimo sarebbe stato un euro goal però altrimenti brutto errore è uscito Jongo nuovamente dopo questa serie di errori al cospetto di un volarevic davvero sontuoso questa sera è rientrato Fadanelli classe 2002 già un gol all'attivo l'ha messo dentro nel corso della primo tempo da posizione di alla destra però Folgeraiter bel passaggio quello di Bolognani poi Folgeraiter mette il pallone con l'aiuto del palo assegno forse non c'era neanche lo spazio per far passare quel pallone vede la luce dove probabilmente nessun altro sarebbe riuscito millimetrico questo tiro diciamo che servono traiettori così improbabili per battere un volarevic come quello che abbiamo visto fino ad ora si gioca sui millimetri turcovic a contatto con la difesa lo scarico dentro la schiena Arceri stavolta non se la sente di andare al tiro la palla nuovamente dentro per Berzic che ha spazio per andare alla conclusione c'è la parata di Valerio San Paolo che può far ripartire l'azione il lancio di San Paolo Felipe Gaeta come un gatto si propicqua su quel pallone poi il tiro di Arceri questa volta addirittura sopra il difensore subisce fallo ci sarà un pallone ancora in mano al Bolzano ritenuta valida l'azione di Arceri dunque il gioco è ripreso dalla rimessa laterale si ha provato a sorprendere staccando davanti al difensore a provare a sorprendere Valerio San Paolo non ci è riuscito comunque fortunato perché rimane con il possesso della palla pallone che è uscito dopo la parata di San Paolo che è pronto a far ripartire l'azione si torna a sinistra dove c'è Argentina per via centrali Dedovic che però non riesce ad agguantare il pallone ancora nuovamente Moser la palla larga per Fadanelli che però non ha spazio bisogna ripartire con ordine e concentrazione su questa difesa schierata nel Bolzano 17-10 il putteggio c'è poca fiducia in questa circolazione di palla c'è poca energia positiva frutto anche degli errori collezionati durante la partita invece dal cilindro argentine capabilità cambia ritmo all'ultimo momento sorprende tutti da matevolare vince il suo diretto difensore e colleziona il suo primo gol per il meno 6 17-11 attacca Berzic per il Bolzano le finte di Gaeta che poi si libera con grande facilità della marcatura avversaria va a trasformare rivediamo l'azione e la rete da parte di Felipe Gaeta rivediamo la danza di Felipe Gaeta perché lui doppio uno contro uno doppio scavalcamento va via come un'anguilla scivola e penetra all'interno della difesa del pressano arriva a tirare praticamente sui metri minuto 41 nel corso di questa gara 2 di finale scudetto della serie a 1 maschile di pallamano si gioca per il scudetto numero 50 nella storia larga la palla attenzione a Moser che ha spazio per andare a battere matevolarevic in una partita di difficoltà per il pressano le note liete sono questi ragazzi così giovani che stanno trovando spazio minuti importanti e anche la soddisfazione del gol bravissimo Nicola Moser tiro schiacciato a differenza dei tiri effettuati in precedenza tutti alti o pallonetti o tiri forti alti sul ammirare l'incrocio dei pali lui invece sceglie la via del tiro schiacciato e supera Molarevic la rete poi di Stefano Arceri che è andato a segnare con questo uno contro uno fulminio fatto valere tutta l'esplosività che ha nelle gambe l'elasticità nei movimenti e si è liberato dalla marcatura un'azione potentissima che gli consente di mettere a referto il suo quarto gol personale Moser che va dentro e riesce a battere ancora una volta matevolarevic con un buon passaggio a tagliare il campo di André Argentin da un terzino all'altro e poi Moser si butta tra primo e secondo e segna illuminante il passaggio di Argentina e senza fronzoli il tiro di Nicola Moser due su due nell'ultimo minuto questa personale prestazione può inserirla nel suo personale palmarès è entrato Jonas Matà classe novantotto originario di Merano prima stagione con la maglia del Bolzano dopo l'esperienza a fondi gran palla intanto di Berzic per Alilcovic che prende posizione raccoglie il pallone va a trasformare per ilà ventitredici rivediamo nel replay l'azione rischia qualcosa anche Argentin che aveva cinturato lo lascia appena in tempo per far cambiare idea probabilmente agli arbitri sarebbe stati sicuramente due minuti di esclusione per lui ma Alilcovic con tutta la sua potenza guadagna la posizione si tuffa e realizza terzo gol personale provo a farsi largo folgeraiter nelle maglie strettissime però della difesa del Bolzano quando siamo alla quarantatresimo minuto di gioco Moser per Argentin ancora Nicola Moser lì nel mezzo cambio di posizione con Bolognani ma la palla è stata recuperata da Arceri che può andarsene in contropiede ma da dove ha staccato Arceri da casa sua davvero gran gol gran gesto tecnico soprattutto ha staccato dagli undici metri ed è arrivato sui sei per andare a trasformare il gol del ventuno tredici aveva finito i passi ma lui se lo può permettere perché con tre falcate è riuscito praticamente ad entrare nell'arco dei nella linea dei sei metri un triplista atleta puro Bolognani intanto per il nuovo attacco del Pressano errore nell'incrocio e l'incontropiede questa volta del capitano del Bolzano Hans Einer Ebner che va a trasformare gol del ventidue a tredici nuovo massimo vantaggio più nove a un quarto d'ora dalla fine della partita e anche Einer Ebner si trova in questa azione solitaria di contropiede a inserire il suo nome nel tabellino della gara due di finale Scudetto e intanto Volarevic neanche a dirlo parata clamorosa dai sei metri abbiamo perso il conto delle parate di Volarevic ormai diciassette parate è entrato anche Michel Pircher in posizione di alla destra ha fatto ruotare a questo punto tutti i giocatori a sua disposizione il tecnico Boris Vorsek gli unici a non essere mai usciti sono Volarevic, Arceri e Turkovic Fatanelli ha provato la pressione Seberzic si continua a giocare intanto Pircher che vuole andare in uno contro uno va lui alla conclusione lo aspettava però su quel palo San Paolo che ha parato ed è pronto a far ripartire l'azione del Pressano Argentin che va in palleggio lui attenzione alla conclusione di Andrea Argentin gran conclusione palla messa all'incrocio dei pali bel gol questo di Andrea Argentin. Ottima l'esecuzione di Argentin stacca con il piede sinistro verso il centro Summatà che non è più alto di tutti Argentin riesce a trovare lo spazio per superare il muro e anche Mate Volarevic secondo gol personale. Primo anno nelle fila del Pressano classe 95 questa stagione gli ha portato in dote anche le attenzioni di coach Riccardo Trellini direttore tecnico della nazionale e la convocazione in maglia azzurra un abitue invece della maglia azzurra e questo signore qua Dejan Turkovic che stacca dai nove metri con la facilità che contraddistingue le sue azioni e va a trasformare. Un Dejan Turkovic riposatissimo che è uscito dal match dopo pochi minuti dall'inizio parte centrale dedicata a Udovcic che è ben affigurato e ha impattato ottimamente la partita odierna e poi ci si può permettere il lusso di riavvicendare di nuovo Turkovic. Argentin per Dedovic che lascia ancora Nicola Moser la palla per Argentina anche se è rimasto a terra Dejan Turkovic che perde sangue dal naso probabilmente una gomitata involontaria di Argentin nell'uno contro uno. Vediamo Dejan Turkovic completamente sporco di sangue probabilmente o gomitata o nel tentativo di scavalcamento o con la spalla addirittura mi è sembrato avesse impattato il naso di Dejan Turkovic. Argentin è andato prontamente a scusarsi chiaramente involontario l'intervento. La dinamica dell'azione è stata chiara. Lascia il campo comunque Turkovic. Sul 23 a 14 alla 46esimo minuto di partita. Più nove il punteggio in favore del Bolzano. Turkovic che ha lasciato il campo sta facendo scaldare tutti i giocatori. A disposizione Boris Vorsek. Sta preparando la passerella per tutti i suoi effettivi probabilmente. Sempre minuto 46 gioco ancora fermo inquadrato Branko Dumnic sulla panchina della Pressano. quest'ultimo atto, quest'ultimissima parte di stagione con le attenzioni che a seguire poi si sposteranno sulla maglia azzurra, sulla nazionale, sulle qualificazioni ai campionati europei di Norvegia, Svezia e Austria del 2020. Ricordo l'appuntamento del 13 giugno prossimo al pala Yamamai di Busto Arsizio e intanto su questa partita ci sono gli occhi naturalmente di tutta la palla mano italiana e anche degli azzurri Alessio Moretti, Michele Scatar, Pasquale Maione, Iballi, Bulsamini e Basic che stanno lavorando in questi giorni a cingoli sotto gli ordini del direttore tecnico Riccardo Trillini per farsi trovare pronti e poi si aggregheranno anche naturalmente gli azzurri che stanno giocando questa serie di finale scudetto per la nazionale che dovrà affrontare la Russia il tredici giugno al pala Yamamai di Busto Arsizio e ripreso il gioco con Turkovic che ha lasciato il campo dopo lo scontro. Il tiro di Argentina ha parato ancora una volta ma non è più una novità e non fa più notizia a Matevolarevic. La palla trattenuta da Jonas Matà che ha ricevuto da Udovic e va dentro poi il possesso per Damir Alilcovic che conclude l'azione in maniera perfetta e va a segnare più dieci, ventiquattro, quattordici. Bravissimo Alilcovic, anche se Argentin avrebbe voluto ha protestato perché voleva un intervento arbitrale, ha lasciato partire il tiro sotto contatto, ci poteva stare, non sono dello stesso avviso gli arbitri e sulla ripartenza Alilcovic mette al segno il suo quarto gol. Si gioca con il pallone in mano al pressano. Gioco fermo perché c'è la time out chiamato da Branko Dumnic. Da uno sconsolato Branko Dumnic. Il mister Branko Dumnic cerca di dare nuove informazioni e indicazioni tattiche sperando che cambiando l'ordine degli addendi cambi il risultato. Tanta fatica in attacco sta facendo il pressano. Vediamo se cambierà anche la difesa. Fatanelli adesso impiegato sulla linea dei terzini con Bolognani e Dedovic che si rivede in campo. Nicola Moser la palla per Bolognani ancora è uscito Argentin. C'è Matteo Moser in posizione di alla destra. Lo scarico per Fatanelli che però non ha spazio. Deve ricedere la palla a Bolognani il quale aveva poi provato a servire Folgeraita. C'è stato un fallo di nuovo nove metri a beneficio del pressano. Dedovic. Il tiro cercato da Bolognani. Palla alta sopra la traversa. Affretta il tiro perché Alilcovic gli stava franando addosso in uscita e non gli ha chiuso lo specchio della porta. Bolognani non è riuscito a chiudere la traiettoria di tiro con il polso. Tiro che si impenna alto sulla parola della tavressa. Ecco il cambio di difesa che Dubnici aveva chiamato nel corso del time out con Fadanelli e Moser a marcare a uomo. Udovic e Bruno Berzic che sono i due portatori di palla coloro che con le loro traiettorie mettono in difficoltà la difesa del pressano. Pirker la conclusione sul primo palo poi recuperato il pallone da Dinko Dedovic. Argentin rischia i passi e comunque non è lucido al momento del passaggio palla regalata nuovamente al Bolzano. E soprattutto non sfruttata la superiorità numerica perché erano attardati due giocatori del Bolzano. Maggiore maggiore precisione ed una scelta tecnica probabilmente diversa cioè non fare il passaggio in salto avrebbe permesso ad Argentin di non buttare quel pallone. Il tiro di Jonas Matà che naturalmente vuole togliersi la soddisfazione del gol. Conclusione non irresistibile però questa volta ha parato Valero San Paolo che poi ha negato la gioia del gol anche dall'altra parte. E intanto il gol la seconda rete della partita per Fadanelli che va a trasformare. Grande coraggio, grande caparbietà dato a mettere dentro il gol del 24-15. E anche il secondo gol lo costruisce con un tiro schiacciato. Sibillino Beffardo che sorprende tutti soprattutto Matevolarevic. Caparbia la sua azione premiata per la seconda volta. Secondo gol per Fadanelli. Bella la palla di Matà per Perker. Apparato San Paolo. Rovesciamento dall'altra parte. Dedovic. La finta di passaggio e poi bella la palla e bravissimo Fadanelli sfortunato. Aveva cercato la girella a superare Volarevic anche con intelligenza perché con un Volarevic che esce in quel modo è l'unica soluzione. Intelligenza e personalità perché eseguire quel tiro non è facile. Leggerlo in volo e fare la scelta giusta è stato sfortunato. Addirittura la palla è stata sputata fuori dopo aver toccato entrambi i pali. Bravo Fadanelli. È entrato Mario Sporcic. Si gioca a sinistra dove c'è intanto Jonas Matà che subisce fallo. Nove metri, nove minuti al termine della partita. Time out chiamato da Boris Vorcek sul più nove in favore del Bolzano. Vuole chiamare a raccolta i suoi perché non vuole lasciare nulla al caso il tecnico croato. I metri, io e Mario, stai in blocco, stai in blocco. Prima palla, stai in blocco. Stai in blocco. Stai in blocco. No, stai in blocco, stai in blocco. Tira, schiena. Tira, schiena. Tira, schiena. nuove idee all'azione d'attacco probabilmente vedremo delle azioni di tiro al volo quantomeno di passaggi spettacolari forse per suggellare la vittoria che a questo punto si sta materializzando sempre più concretamente vediamo lo svilupparsi di quest'azione il tiro di Matà che è finito alto solo blocco al centro e Matà che è salito a tirare dai 10 metri tutto molto semplice brutto il tiro di Matà è entrato intanto Vivayder in posizione di alla sinistra vuole far naturalmente ruotare gli uomini Boris Vorsek per dare la soddisfazione alla giusta passarella, il giusto spazio a tutti i giocatori a sua disposizione anche ai più giovani Moser la palla per Dedovic poi il tiro di Bolognani smorzato dal muro e a vita facile Mate Bolarevic intanto ci aggiornano i colleghi in particolare Stefan Perri il collega del Dolomiten sul stato di salute di Dejan Turkovic solo un taglio profondo fortunatamente dunque nessuna frattura nessuna rottura per Turkovic dopo lo scontro di gioco in precedenza con Argentin intanto anche Vivayder sul parquet che sta cercando di mettersi in mostra Fadanelli palla recuperata anzi no c'è fallo nove metri si riparte con Folgerheiter c'è il cambio con Dumnic che richiama in panchiera Andrea Argentin è rientrato Bolognani Fadanelli ancora siamo nelle fasi finali di questa partita non si stancano comunque i sostenitori sugli spalti e in particolare quelli del Pressano che nonostante la difficoltà della loro squadra continuano a tifare il tiro cercato ancora una volta da Fadanelli che si prende i tiri da un po' tutte le posizioni senza paura la posizione parata questa volta da Volarevic fa buona guardia Matevolarevic sul tiro classico di Fadanelli non riesce a superarlo sul palo più lontano intanto vediamo le cure mediche portate allo zigomo di De Anturkovic abbiamo visto un Argentin stremato non è abituato a tutti questi minuti di gioco sia in attacco che in difesa e infatti non riesce a fare buona guardia su questa azione d'attacco del Bolzano viene sostituito nuovamente non ce la fa rivedibile la sua chiusura difensiva questa volta con a corto d'ossigeno Matà che poi è riuscito ad andare dentro 25-15 più 10 e a questo punto 6 minuti e poco più dividono il Bolzano dalla festa finale per una conquista dello Scudetto che ormai appare quasi cosa fatta a meno di clamorosi rovesciamenti nell'andamento della partita c'è un fallo su Moser e si ripartirà da un tiro dai 7 metri c'è anche un cambio con Harald Puzzer che sostituisce Matevolarevic per questa conclusione dai 7 metri questo tiro dai 7 metri con Nicola Folgera che si incarica dalla battuta e arriva la rete da parte di Folgera che non sbaglia 25-16 Matà ancora in 4-2 il Prestano sta mettendo in difficoltà la circolazione di palla del Bolzano isolati in isolamento Sporcic e Udovcic è entrato anche Andras Kammerer Bivajder va in elevazione poi Sporcic il tiro non poteva mancare il timbro di Mario Sporcic su una partita così importante lui che con Dian Turkovic ha vissuto di fatto tutta l'escalation dei titoli degli scudetti vinti dal Bolzano e si e anche questa sera Mario Sporcic va al referto e scrive il suo nome del tabellino della gara 2 di finale scudetto lui Turkovic Felipe Gaeta Hansin Rebner Michael Pircher sono giocatori che hanno davvero dominato assieme a quelli della Junior Fasano la scena della palla a mano contemporanea della serie A1 contemporanea possiamo definirli i senatori ancora in carica i senatori che continuano a vincere e convincere sono ancora il faro il punto di riferimento l'esempio per chi si approccia a questo sport attacca ancora Jonas Matà la sua conclusione palla che finisce tra le gambe per il 26 a 16 di Facchinelli che ha vicendato San Paolo esatto entrato in campo Matà secondo gol tutti andati a referto tranne Vivayder e Pircher che ha più volte litigato con il gol per la verità è stato Valerio San Paolo a negargli questa gioia Folgeraiter siamo nelle battute conclusive di questa gara 2 di finale Scudetto il Bolzano si sta limitando in questi minuti a tenere costante a tenere invariato il divario rispetto al Pressano 11 gol questo è anche il massimo vantaggio nel corso della partita per chiudere questa serie per portarla sul 2 a 0 dopo la vittoria 28 a 21 in gara 1 al Palavis mercoledì scorso il bilancio in stagione diceva 1 a 1 nella regular season con entrambe le squadre che avevano battuto in trasferta l'altra mentre l'altro precedente il terzo in finale di Coppa Italia era stato un altro 28 a 21 sul neutro del Palachi Arbola di Trieste e lì la Coppa Italia si era presa a Bolzano che ha uomini che in queste partite si esaltano abituatissimi e lo ricordavamo prima l'elenco di questi giocatori abituatissimi a giocare partite di questo tipo in un campionato per Luigi che comunque si è rivelato molto molto avvincente il ritorno al girone unico alle 14 squadre abbiamo visto battaglia fino alla fine per rientrare nei playoff abbiamo visto poi il Fasano che non ce l'ha fatta e dunque non ha potuto difendere nelle semifinali Scudetto il titolo il titolo ha dovuto lasciare posto al Castano Magnago che ha ben figurato e dunque ci fa piacere vedere anche nuove realtà che si affacciano nella parte alta del tabellone nella parte alta della classifica sentiamo anche di squadre ambiziose per il prossimo anno insomma è uno Scudetto che fa gola e ci sono squadre che si stanno attrezzando e altre che non vogliono invece lasciare posto a chi arriva da lontano e parlo naturalmente del Bolzano certo è un Bolzano che ha che ha sempre lottato ha sempre vinto ha sempre ben figurato durante l'arco dell'anno e abbiamo ricordato anche quanto è importante quanto è stato determinante il piazzamento della regular season queste sono due squadre che hanno strappato il pass per la finale dopo essersi posizionate rispettivamente prima e seconda in regular season che questo piazzamento ha garantito la bella in casa e dato che è stato sempre rispettato il fattore campo nelle partite di semifinale viene da sé quanto è importante il piazzamento in regular season 1 e 15 al termine della partita 27 a 17 il punteggio ha segnato un altro gol Fadanelli dato interessante sarà il sesto avvicendamento nell'albo d'oro della serie 1 tra Bolzano e Fasano che si sono date il cambio nella vittoria dello scudetto in questi anni per il sesto anno consecutivo ci sarà una variazione ovvero l'una toglierà lo scudetto all'altra in questo caso il Bolzano lo toglierà alla junior Fasano manca davvero poco al fischio di chiusura 28 a 17 il risultato finale poi sarà festa e sarà grande gioia naturalmente per i giocatori del Bolzano è già tutta in piedi la parte di tribuna con i sostenitori in maglia bianco-rossa perché mancano davvero pochi istanti 30 secondi tutta in piedi la panchina del Bolzano del tecnico Boris Vorsek che dunque alla prima stagione sulla maglia del Bolzano sulla panchina anzi del Bolzano si prepara a festeggiare lo scudetto dopo aver vinto la Coppa Italia si alza il volume della Palace Board di Bressanone 8 secondi alla fine è il momento dei saluti di rito tra le due formazioni può festeggiare il Bolzano che è campione d'Italia per la quinta volta nella sua storia dodicesimo titolo tra campionato Coppa Italia e Supercoppa dalla stagione 2011 2012 a oggi è quinto scudetto per la quinta volta il Bolzano scrive il suo nome nell'albo d'oro è la società più antica della palamano italiana e vince nell'anno del cinquantesimo scudetto nell'anno del cinquantennale anche questo è un dato simbolico e storico noi siamo davvero in chiusura il momento della consiglia della Coppa coinciderà anche con i saluti e con l'appuntamento che vi do anzitempo al prossimo 13 giugno in diretta dal pala Yamamai di Busto Arsizio Italia-Russia qualificazione ai campionati europei di Norvegia Svezia e Austria adesso però è il momento della consegna della Coppa Hannesine Rebner la riceverà dalla presidente federale Pasquale Loria il Bolzano è campione d'Italia nell'anno del cinquantennale della pallamano italiana il Bolzano vince lo scudetto il quinto scudetto della sua storia applausi per la formazione Bolzanina campione d'Italia per la quinta volta nella storia siamo ai saluti siamo in fase di chiusura il Bolzano è campione d'Italia con queste belle immagini di festa vi salutiamo dal palasbord di Bressanone da Matteo Aldamonte e Pierluigi di Marcello un grande grazie per essere stati con noi Bolzano campione d'Italia buona pallamana a tutti alla prossima eccoci di nuovo in studio abbiamo visto questa partita noi siamo veramente in chiusura l'epilogo della stagione a tutte le amiche e gli amici della pallamano d'appuntamento a settembre buona estate a tutti ciao ciao in collaborazione con ciao